Com'è questo giro? Tu l'hai imparato già? Non lo so, c'è quello. Ah, sì? Ma qua, perché c'è questa roba blu che guardavo prima? Per rimetterti. Per rimetterti. Quindi tu te li vedi qua che ti passano quando c'è di box? Guardiate, si senta da piano. No dai, poverini, ti hanno appena detto di andare in plano. Qui c'è gente che lavora, che ti spregge più. C'è la politica, che figlio. No, tu lo fai a posto. Ma questo non è da più. Vedi i confronti Ricciardina. Cioè veramente, no, 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 no. Non mi diverso, mi sto divertendo. Per favore, è tanto bellino vederti. Ma poi questa macchina non ha una Formula 1, non è incollata come una Formula 1 per terra. Ah, signore, mamma, andiamo a fare un girosone. Ma io ti ho detto di andare in plano. Per favore, ho i bambini. Aspettiamo, mamma. Per favore. No, no, Riccardo. No, mamma! Brannetta! Ma sei matto? Mamma, fa culo! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Per favore! Per favore, Riccardo, devi andare piano di passi a piaccio! Mamma mia! Riccardo! Riccardo! Scendo! No! Per favore! Porta! Ma sei strozzo! Mamma, fa culo! Non salgo più! Cosciazzo che salgo ancora! Che l'avevo detto che non volevo salire! Oh, lo spezzantino, madonna! Ogni volta che salgo in macchina con te, sta roba qua, mi viene un vomito. Oh, ma sei!